In occasione della firma da parte del ministro dell'interno Marco Minniti, del registro della cittadinanza consapevole, fortemente voluto dall'ex presidente della Commissione regionale Pari Opportunità, avvocato Giovanna Cusumano, e da Procura e Prefettura di Reggio Calabria. A Palazzo del Governo c'erano parecchi studenti e molti tra i 51 sindaci del Regino, nei giorni scorsi autori di una missiva al titolare del Viminale, per protestare contro i troppi scioglimenti a loro avviso per infiltrazioni mafiose di comuni soltanto calabresi contenuti nelle ultime decretazioni di Palazzo Chigi. La mafia si può battere, ha ribadito il membro regino del governo Gentiloni, nel sottoscrivere il registro, lanciato con la campagna a una firma contro l'andrangheta. E stavolta, ha aggiunto, con membri di caratura criminale assoluta, come Totò Riina, morti in carcere, non è più una petizione di principio, come quando affermavano la stessa cosa Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Non si può perseguitare, non si può uccidere, non si può spargere sangue nel nome di Dio. Non c'è nessuna possibilità di trovare una giustificazione all'oppressione nei confronti dell'altro. E le macchie sono uno strumento di oppressione. Chiunque figlio umano pensi come se stesse giurando per un'altra volta. E se qualcuno ha dei dubbi, si può anche all'ultimo minuto non firmare. Non è obbligato, l'importante è che chi firma sappia che sta giurando. Noi restiamo fiduciosi anche perché, se da qui a qualche settimana non avremo risposta, reiteriamo la nostra istanza. Siamo 51 sindaci, 51 sindaci convinti, su 85 sindaci attualmente in carica, convinti che la normativa attualmente non vada bene. Noi riteniamo, vista una storia di circa 26, quasi 27 anni, in cui le relazioni per lo scioglimento spesso sono quasi dei duplicati. Qualche volta hanno degli errori importanti, in cui si citano fatti non esistenti. E però, nonostante ciò, il Comune rimane sciolto per i 24 mesi, perché sappiamo che sono 18 più 6 mesi, 24 mesi, con dei commissari prefettizi, che sono dei servitori dello Stato anche loro, ma che non hanno la stessa dedizione dei sindaci. Perché lei oggi non ha firmato, non ha posto la sua firma sul registro antindrangheta? Sono convinto che il giuramento che ho fatto quando sono stato eletto circa un anno e mezzo fa al Comune di Rogudi, che è un giuramento di lealtà allo Stato, un giuramento di lealtà alla Repubblica, alla Costituzione e alle leggi dello Stato, sia non solo ampiamente sufficiente, ma sia di grado superiore e omnicomprensivo di questa azione che assume per me un po' la figura del proclama e quindi un'azione che appunto serve più ad apparire che a fare. È stata importante questa indagine perché abbiamo tolto dalla schiavitù possiamo dire più di 100 ragazze. Giovani donne africane tra i 19 e i 30 anni, alle quali si prometteva un lavoro e una vita onesta, dietro pagamento di una somma di denaro dai 15 ai 30 mila euro, finite invece nella rete di un sodalizio criminale, dedito alla tratta di esseri umani, l'immigrazione clandestina, riduzione in schiavitù e sfruttamento della prostituzione, operante nel territorio italiano tra Lamezia Terme, Rosarno, Amantea, Napoli e Foggia con ramificazioni in Nigeria e in Libia. Le indagini sono partite a gennaio 2017 dopo la denuncia di una delle vittime e hanno portato ad un provvedimento di fermo emesso dalla procura distrettuale antimafia di Catanzaro eseguito dai carabinieri del gruppo di Lamezia Terme nei confronti di sei nigeriani e un italiano, donne sottoposte a riti voodoo, violenze fisiche e psicologiche in alcuni casi costrette ad abortire, affidate ad una madame che le trattava come oggetti. Qual era il ruolo del soggetto italiano? Il soggetto italiano era un fiancheggiatore, diciamo che svolgeva il ruolo di factotum e aiutava, coadiuvava le donne ma soprattutto la madame nelle faccende giornaliere. Esisteva una cassa comune e questa ricorda un po' la bacinella dell'Andrangheta e in questo caso questa cassa comune serviva proprio ad essere da sostentamento alle madame che gestivano, ognuna delle quali gestiva 8-10 ragazze. Queste donne diventavano a loro volta madame? È successo che alcune ragazze, una volta che riuscivano ad affrancarsi pagando la somma di denaro che gli era stata imposta, che una volta pagata questa somma e riconquistata la libertà, accadeva spesso che a propria volta la ragazza che era sfruttata diventava a sua volta madame di altre ragazze che arrivavano sempre dalla Nigeria seguendo la solita trafila. Rossella Galati per la CNews 24 Il Catanzaro non subirà nessuna retrocessione e neppure nessuna penalizzazione. Il processo sportivo scaturito dall'inchiesta Moneygate che vedeva coinvolto il club giallorosso e quello erpino per la presunta combine del 5 maggio 2013 si è chiuso con un nulla di fatto. Il Tribunale federale nazionale infatti ha prosciolto tutti i deferiti poiché ha ritenuto che non si sia raggiunta la prova al di là di ogni ragionevole dubbio della fondatezza dell'impianto accusatorio. Per il collegio non vi è la certezza del raggiungimento di un accordo finalizzato ad alterare il risultato della partita in assenza di alcun riscontro in ordine ad un contatto diretto con i vertici istituzionali dell'Avellino coinvolti nell'indagine prima e dopo la partita stessa di un effettivo coinvolgimento di tutti i calciatori nella vicenda in questione e di alcun contatto successivo fra i due presidenti. Per questi motivi il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, ha disposto il proscioglimento di tutti i deferiti, comprese le due società. Già dal mese di agosto, da quando c'erano le richieste di addizione alla procura, abbiamo sempre manifestato la nostra perplessità alle appunti che ci venevano mosse. Non c'era, di questo lo posso dire con gioia, soprattutto perché il tribunale mi ha dato un fermo, che non c'era nessun accordo necessario, nessun accordo tra l'Avellino e il Casanzaro. È chiaro che una sentenza di condanna avrebbe portato un grande danno non solo alla società, ma anche alla città intera di Casanzaro. Vi aspettate un ricorso? Sicura, io mi aspetto l'appeto della procura. Alessio Buonpasso, per la Cineus 24. Il Natale è alle porte, ma non per tutti sarà un giorno di festa. La CTV, il network dei calabresi, ha deciso così di far visita a chi è costretto a trascorrere le feste, lontano da casa. Sono i bambini del reparto di chirurgia pediatrica, onchematologia e pediatria dell'ospedale annunziata di Cosenza. Tra i reparti, dove il personale medico fa di tutto per far respirare un clima natalizio, il direttore della testata alla Cineus24.it, Pasquale Motta, il direttore di rete Franco Cilurzo, la giornalista Cristina Iannuzzi, in rappresentanza dell'azienda editoriale, hanno consegnato diverse leccornie, rivolto parole di conforto, accarezzato i volti provati e infuso un po' di gioia anche a chi, tra i piccoli, non ha potuto farcare la porta del reparto. Ad accompagnare i rappresentanti del network in questa visita speciale ci ha pensato Gianfranco Scarpelli, direttore dell'unità operativa complessa di neonatologia ETIN e del Dipartimento Materno-Infantile dell'ospedale. I doni sono stati ben accolti dai piccoli degenti, che si sono lasciati andare in ringraziamenti, bacini e auguri di un felice Natale. Buon Natale Buon Natale Grazie Rosaria Giovannone per la CNews24 Io partecipo a tutti i funerali, a quasi tutti i funerali. Nel caso specifico mi si addebita quando non ero sindaco, sia chiaro, quando ero libero cittadino alla partecipazione al funeral di un'anziana signora che io conoscevo, anzi lei mi conoscevo quando io ero in fascia e mi si dice che non avrei dovuto partecipare perché il figlio della signora era ristretto. Io il figlio della signora non l'ho mai conosciuto, mai visto. Mi dispiace che una povera donna, una povera anziana deceduta si debba parlare di lei nel lavoro anche parlamentare come una signora in odor di mafia. Per chiedere scusa e anche perdono alla signora il giorno di Natale io porterò sulla sua dombo un fascio di Garofone Rossi. Che cosa l'amareggia di più in tutta questa situazione? Mi amareggia il fatto che lo Stato mi ha girato le spalle perché sono stato sempre da parte dello Stato. Deve sapere che appena ho detto sindaco la prima nota che ho ricevuto è una lettera anonima in cui mi dicevano che mi avrebbero tagliato la fascia se avessi fatto alcune cose. Le cose che loro non volevano io le ho fatte. Dopo un po' di tempo mi hanno squarciato le gomme della mia macchina. Nel febbraio scorso è stata profanata la lapida di mio padre, è stata verniciata di nera anche la foto di mio padre. Io mi aspettavo vicinanza a parte dello Stato. È stato trovato un sistema di protezione nei miei confronti. Allora due sono le cose. O io sono da proteggere e se sono da proteggere perché forse probabilmente sapete che sono stato un personaggio scomodo, avrò dato fastidio a qualcuno, come ho dato fastidio a qualcuno. Io ho smandellato un sistema di potere e se mi proteggi non posso essere cacciato per mafia. È un'umiliazione che non aura a nessuno. È un'umiliazione così forte che sono momenti in cui piangi da solo. Non perché sei debole, ma per l'ingiustizia ricevuta. Cristina Iannuzzi per l'AC News 24. Nessuna mistificazione della realtà né manipolazione delle notizie. Così il tribunale di Catanzaro si è espresso sulla richiesta di un milione di euro di risarcimento avanzata dal commissario Massimo Scura nei confronti del giornalista del quotidiano del Sud Adriano Mollo. Oggetto di dibattimento quattro articoli definiti dal dirigente Lombardo, chiamato a mettere ordine nei conti della sanità calabrese offensivi e lesivi della sua reputazione e del suo lavoro. Una tesi sconfessata dal primo grado di giudizio cristallizzata nella sentenza che attribuisce a quanto scritto dal giornalista caratteri di verità, pertinenza e continenza. Sette pagine fitte di motivazioni nelle quali il giudice Francesca Rinaldi fa più volte riferimento al diritto di cronaca, giungendo alla conclusione che la domanda avanzata dal dirigente non può trovare accoglimento. Richiesta clamorosamente rigettata dunque per il commissario Scura, che è stato inoltre condannato, oltre che al pagamento delle spese processuali, alla liquidazione di 11.242 euro di compensi professionali, vale a dire la parcella degli avvocati assunti dalla controparte per difendersi dalle sue accuse di giudicate infondate. Si conclude così il primo atto di una brutta storia dal finale inatteso, destinato a creare un precedente nella storia dell'informazione, una sentenza che contribuirà forse a ricordare ai dirigenti pagati a peso d'oro che a grandi compensi corrispondono grandi responsabilità. Loredana Colloca per la Cineus 24. C'è anche la grossa motonave da 8 tonnellate, ormeggiata da anni al porto di Reggio Calabria, fra i beni che la Corte d'Appello ha sequestrato e confiscato all'imprenditore ed ex parlamentare Amedeo Matacena. Il provvedimento è stato eseguito dagli uomini della Direzione Investigativa Antimafia ed ha riguardato anche le quote, totali o parziali, di 12 società, di cui 4 con sede in Italia, fra Reggio, Villa San Giovanni e Roma e 8 all'estero, in stati come le isole Nevis, il Portogallo, Panama, la Liberia e la Florida. Nell'elenco figurano anche disponibilità finanziarie in conti esteri e 25 immobili aziendali per un valore totale che supera i 10 milioni di euro. Matacena, già condannato in via definitiva a tre anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa, è da tempo latitante a Dubai. Fu lui in passato l'uomo politico di riferimento per le cosche regine, mentre attualmente è coinvolto nell'inchiesta Breakfast che ha visto anche finire in carcere l'ex ministro dell'interno Claudio Scaiola, accusato di averlo aiutato a sottrarsi alla cattura. Proprio Scaiola si trova adesso sotto processo davanti al Tribunale di Reggio Calabria e nelle prossime settimane si assisterà all'arrivo in aula di testimoni di rilievo citati dalla difesa come Silvio Berlusconi che dovrebbe essere sentito il prossimo 22 gennaio. Ma anche l'ex presidente del Libano, Amin Gemayel, l'ex parlamentare Marcello Dell'Utri, Bruno Mafrici, sedicente avvocato già indagato nel filone milanese dell'inchiesta, nonché due noti professionisti reggini, gli avvocati Giuseppe Verdirame e Antonio Rili. Tornando al sequestro e dalla confisca, gli uomini della DIA hanno accertato la sproporzione fra i redditi dichiarati e quelli effettivamente disponibili. Le società si riferiscono prevalentemente ad attività di traghettamento, trasporti marittimi e nel settore dell'immobiliare e dell'edilizia. Consolato Minniti per la CNews 24. C'è Delina che da quel giorno custodisce la camera del figlio che non farà mai più ritorno e i suoi cuscini continua a ricamare le sue iniziali. O Francesca che piange due volte per quel figlio unico nato da un amore stroncato dalla guerra. Sono decine le storie raccontate da Giovanni Petronio nel libro I ragazzi della fiumarella, un disastro ferroviario a colori. Un volume fitto di documenti e fotografie ma soprattutto storie di uomini, donne, giovani e bambini, vittime del tragico incidente ferroviario che il 19 dicembre del 1961 portò alla morte di 71 persone e al ferimento di altre 29. Una tragedia che per il piccolo centro di decollatura nel Catanzarese assunse i tratti di un'ecatombe. A distanza di 56 anni le cicatrici di quel disastro non accennano a sparire. La decollatura è stata devastata dalla sciagura, dal disastro ferroviario della fiumarella. Sono morte 31 persone su 71. Media di età di 18 anni. Sono morte le speranze, le gioie di adolescenti. Di adolescenti che la sera prima si erano salutati con un ultimo bacio, con un sorriso, con un abbraccio. Si è andata la speranza di un'intera comunità di 4.000 persone. Arrivare a ricostruire quello che è stato dopo quasi 60 anni non è stato facile, è stato umanamente complicato ma doveroso. Loredana Colloca per la CNews 24. 4 udienze di fila per la requisitoria del pubblico ministero della DDA di Catanzaro, Anna Maria Frustaci, nel processo burgatorio. Ma alla fine arrivano le richieste di pena. 7 anni e 8 mesi per l'avvocato del foro di Vibbo, Antonio Galati. 6 anni di reclusione per l'ex capo della squadra mobile di Vibbo, Maurizio Lento. 6 anni e 6 mesi per Emanuele Rodonò, già vice capo della squadra mobile vibonese. Le richieste del pubblico ministero sono state formulate dinanzi al tribunale collegiale di Vibbo Valencia, presieduto dal giudice Alberto Filiardo. Un processo particolarmente complesso per un'operazione che nel febbraio del 2014 ha portato in carcere l'avvocato Galati, accusato di associazione mafiosa, e gli ex vertici della squadra mobile di Vibbo, Maurizio Lento ed Emanuele Rodonò, accusati di concorso esterno in associazione mafiosa. La pubblica accusa ritiene quindi provata la partecipazione dell'avvocato Galati alla Cosca Mancuso, i cui vertici ed affiliati sono stati processati in un parallelo processo ed assolti in primo grado, mentre i due poliziotti, ad avviso della DDA di Catanzaro, avrebbero omesso di indagare sul clan Mancuso e gemone nel vibonese. La parola alle difese passerà il 7 febbraio prossimo, per poi proseguire il 16 ed il 23 febbraio. Quindi l'attesa sentenza, prevista per la fine di febbraio o gli inizi di marzo. Giuseppe Baglivo per la Cineus 24. Archeologia magno-greca, panorami mozzafiato, sapori tipici. Il Touring Club ha fortemente voluto un workshop realizzato al mattino a Reggio Calabria, a Palazzo Piacentini, sede del Museo Archeologico e nel pomeriggio a Messina, al Rettorato, quale proiezione di un progetto internazionale per l'area dello stretto. Eloquente il tema? Lo stretto di Messina, da terra di frontiera ad ab turistico. L'area dello stretto si può porre come una delle destinazioni del mezzogiorno più invitanti per le sue caratteristiche intrinseche, perché ha grandi attrattori, ma soprattutto perché ci sono i soggetti che vogliono fare qualcosa di nuovo. Non è tanto la bellezza quella che attrae il turista, ma la capacità di narrarla, i soggetti in grado di avere tutte le caratteristiche per creare un prodotto turistico. Davanti a politici, stakeholder, esponenti delle associazioni, è stato dispiegato con dovizia di particolare il progetto TCI. Fare massa critica per sfondare presso i tour operator di tutto il pianeta. E per riuscirci serve... Che questa diventi una destinazione unica turistica. Se noi facciamo un attimo, mentre lo guarda il fatto che abbiamo circa 600.000 visitatori l'anno a Messina con le navi da crociera e 240.000 visitatori di questo museo a Reggio Calabria, se facciamo 2 più 2 fa 4. Cioè questa è una vera destinazione turistica. Oltre al dato turistico, in tempo di fusioni traenti, si fa poi largo un'ipotesi fascinosa. La città metropolitana dello stretto. O chissà, la regione dello stretto. Una nuova soggettività a cavallo dello stretto. È una possibilità, lei ci crede? Guardi che se non si fa così, essere città metropolitana è poco più di un'etichetta. Perché sono le due città metropolitane più piccole. Insieme non arrivano 500.000 abitanti. Devono mettersi insieme. E mettersi insieme vuol dire avere quella massa critica in grado di conquistare i mercati internazionali. Enesimo atto intimidatore. Nonostante tutto, però, lei continua a resistere, a sfidare le cosche. Non mi arrenderò mai, continua a ribadire. Ma io non sfido le cosche. Mi guarderei bene da sfidare le cosche di Indrangheta perché conosco la potenza e il potere che hanno. Io semplicemente per una questione di dignità personale cerco di resistere, di fare, di opporre quel minimo di resistenza che riesco ad opporre e quindi cerco di garantirmi la presenza sul territorio in cui sono nato, in cui sono nati i miei figli, in cui sono nati quelli che sono venuti prima di me. Il Senato ha di recente licenziato la nuova legge sui testimoni di giustizia. Qual è la sua opinione? Ma credo che innanzitutto ha messo finalmente una differenza tra il collaboratore di giustizia e il testimone di giustizia. Ed era ora che questa cosa avvenisse perché molte volte si confondeva le due figure. Il collaboratore di giustizia, mi permetto di ricordare, è una persona che era un affiliato alle cosche mafiose, alle organizzazioni criminali di stampo mafioso che poi a un certo punto ha deciso di collaborare con le istituzioni dello Stato. Il testimone di giustizia invece normalmente è un cittadino che a un certo punto, per motivi personali o comunque a volte anche per la coscienza civile che si può anche avere, decide di collaborare, di dare una mano alle istituzioni dello Stato. Questo fatto era ora che venisse in qualche maniera dalla legge e dalle istituzioni, quindi dal legislatore, riconosciuto. Tanto più che i testimoni di giustizia non sono poi così tanti sull'intero territorio nazionale e ancora di più se riferiti al contesto calabresi. Io credo che molti di noi calabresi, una grande per cento, potrebbero essere dei testimoni di giustizia. Non c'è bisogno di sapere molte cose perché molte cose le si sanno già. Lui, Eugenio Migniti, presidente della Camera Penale di Locri e responsabile dell'Osservatorio dell'Unione Camere Penali Italiane per il giusto processo del doppio binario. Sta curando l'istanza di revisione del processo per Giovanni Strangio, ergastolano, che il 9 giugno del 2016 è stato riconosciuto dalla Corte di Cassazione in via definitiva come il responsabile principale della strage di Duisburg, la mattanza che il 15 agosto del 2007 mostrò al mondo la brutalità dell'andrangheta. Mi sto interessando alla questione del giudizio revisionale sulla scorta praticamente di un nuovo dato dichiarativo che è emerso praticamente successivamente dalla definizione del procedimento, dal passaggio giudicato della sentenza, e sulla scorta anche di attività intercettiva che è intercorsa praticamente tra due soggetti nell'ambito di un procedimento penale piuttosto importante che si sta celebrando dinanzi alla Tribunale di Reggio Calabria. Il penalista, che mantiene le sue riserve anche sulla portata indiziale degli elementi che hanno portato alla definitiva condanna di strangio, spiega come egli si stia preparando a produrre anche una terza carta, un pentito. Un'ulteriore prova dichiarativa che proviene da un collaboratore italiano, però, voglio dire, utilizzato dall'autorità tedesca, che riconduce la strage di Duisburg ad un universo scenario criminale. Quindi non lo scenario, il palcoscenico sanluchese, quello della cosiddetta faida, ma assolutamente invece un ambiente di narcotraffico con paesi esteri. Da Vibo Valencia per la Cineus 24. Dato alle stampe prima dell'inchiesta giudiziaria, il libro su Mimmo Lucano continua a mobilitare chi vuol saperne di più sul modello Riace e su come difenderlo. A palmi per la presentazione di Mimmi Capatosta, anche il sindaco renziano Giuseppe Ranucci è venuto a dire che lui, pur non conoscendo personalmente il collega della sinistra movimentista, il binomio accoglienza e integrazione sperimentato nella Locride lo apprezza. Adesione politica dell'autrice Tiziana Barillà, una giornalista regina che vive a Roma, ha collegato ai valori universali ma anche alla pratica necessaria. Il coraggio, se vogliamo, anche di disobbedire alle leggi quando ritenute ingiuste e anche alla burocrazia. Con Lucano c'è anche il giornalista Arcangelo Badolati, uno dei più bravi cronisti di giudiziaria in Calabria, a significare che per il popolo di Lucano nessuna inchiesta può offuscare quel modello. È un modello virtuoso che diventa riferimento e testimonianza non solo per i calabresi. Sarebbe bene che fosse così, purtroppo invece è condannato alla resistenza. E se il volontario umanitario Ensenfantino ha descritto la condizione di sofferenza nei campi profughi per avvalorare il senso dell'integrazione riacesi, l'autrice ha insistito nella spersonalizzazione. Mimmo Lucano non è un eroe, Mimmo Lucano è un sindaco giusto, serve il coraggio per fare riace, non serve Mimmo Lucano. La Calabria fa dunque conti col suo modello che parla al mondo di una rivoluzione e con un certo mondo che invece si sente imbarazzato. Può bastare un avviso di garanzia per bloccare una fiction? La vicenda in Rai ancora non è risolta. Questo momento storico è sempre, quando ci sono le elezioni, tutte le decisioni sono falsate. Credo che il film di Mimmo è un film che effettivamente può spostare una certa percentuale di consenso. Spotenza di un fatto dirompente, dare lavoro ai riacesi e ai profughi che dopo vent'anni nessuna ombra sembra affievolire. Se lei avesse la possibilità di riaprire questo libro e aggiungere qualche capitolo? Lo lascerei così com'è, perché credo che questa vicenda giudiziaria sia una parentesi turbolenta ma che non modifica affatto un lavoro di vent'anni e soprattutto che non modifica un esempio che è quello di Riace che noi dovremmo assolutamente prendere così com'è. Agostino Pantano per la CNews24 Cavallaro torna a casa. Dopo l'anteprima nazionale in quel di Vibbo, il re della tarantella calabrese ha presentato nella sua caulonia Calanchi, l'ultimo alub di inediti studio magistralmente prodotti da Toni Canto. Il CD contiene una raccolta di nuove brani musicali che ribadiscono il suo stile armonico costruito secondo un'intelligente commistione di strumenti tradizionali e sonorità contemporanee. Oltre a scrivere e interpretare le sue canzoni, sempre nel solco della tradizione popolare, Cavallaro è anche ricercatore di quei brani che non hanno mai raggiunto un pentagramma o un'ufficialità, ma che vengono tramandate per via orale da generazioni. Per lui una discografia già molto ricca e migliaia di concerti nelle piazze e nei teatri di tutto il mondo. Lo stile è sempre quello della musica popolare, con delle innovazioni, chiaramente delle sonorità un po' diverse, perché chiaramente un artista deve sempre cercare di aggiungere qualcosa di nuovo, di diverso ai propri lavori. Penso che sia un lavoro che è sempre nello stesso solco, che va avanti, che parte dalla ricerca, ma che va verso l'innovazione, verso platee più ampie. Ilario Balì per la CNews 24 Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizia. La CNews 24, edizione giorno alle 14 ed edizione sera alle 20 e 30. La CNews 24, la Calabria che fa notizia. La CNews 24, 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 la CNews 24 Grazie.